Caso banchero c'è stata una risposta da parte della regione Liguria dell'Asl, vi soddisfa? Noi l'abbiamo detto fin dall'inizio, le chiacchiere stanno a zero. Noi vogliamo vedere i titoli, vogliamo vedere la documentazione nero su bianco. Solo quella è una risposta soddisfacente, non per noi come forza di opposizione, ma per il servizio pubblico, importantissimo, quello appunto sanitario, e per la stessa persona, anche per la stessa banchero, che deve essere in qualche modo tutelata. Quindi ci facciano vedere i titoli, facciano vedere che il direttore sanitario può svolgere quel ruolo, e noi siamo felicissimi. In alternativa, non avesse i titoli, ovviamente si aprirebbe un problema innanzitutto politico, perché la nomina ha una chiara connotazione, ma poi si aprirebbe un problema anche per i responsabili, che hanno permesso che quel nome fosse inserito nell'elenco, e ovviamente anche per chi l'ha nominata. La vostra richiesta adesso è quella della chiarezza, rivolta in modo particolare all'assessore Viale. Porterete questa, siccome appunto viene detto che sta montando un caso politico di fatto, questo caso verrà portato in Consiglio regionale? Beh, allora, innanzitutto noi ieri abbiamo provveduto a spedire tre lettere di richiesta appunto di informazioni urgenti, quindi una sorta di accesso agli atti, una all'assessore Viale, una al commissario straordinario di Alisa, che è la Super Asla Ligurev, Alter Locatelli, e una al direttore generale dell'Asla 5, che ha formalmente nominato la banchero come direttore sanitario, appunto Andrea Conti. Abbiamo inviato questa lettera di richiesta di informazioni, proprio perché ora si va nella pausa estiva, non ci sono consigli, noi reputiamo la questione emergenziale e molto appunto urgente, e vogliamo quanto prima avere i documenti in mano. Con i documenti in mano poi ci si potrà muovere, si apriranno molti scenari. Sicuramente a settembre un'interrogazione in Consiglio ci sarà, anche perché ne dovremo chiedere conto anche ufficialmente in aula, ma per i nostri cittadini vogliamo assolutamente avere la documentazione subito. Grazie.